Se i murales su tre cabine elettriche prendono forma a Montevago, il nuovo progetto di street art nel centro bellicino si chiama cabine d'arte ed è stato realizzato dalla Proloco Rutilio Scirotta in collaborazione con l'amministrazione comunale nell'ambito delle iniziative di democrazia partecipativa. All'opera il maestro Paolo Manno è in collaborazione con l'artista Giuseppe Morreale mentre il progetto è dell'architetto Vincenzo Barrile. I primi quattro murales sono stati realizzati sulle facciate di due cabine dell'Enel in via Giovanni XXIII in piazza Aldomoro ma i lavori proseguiranno anche nella terza cabina in piazza De Gasperi. Il tema è quello delle mani che abbracciano la storia, la solidarietà, l'agricoltura e l'acqua della città termale. Cabine d'arte, spiega il sindaco Margherita Larocca Ruvolo, rientra in una serie di interventi che si stanno mettendo in campo per ridare il nuovo colore e decoro alla città, togliendo un po' di quel grigiore che dà il cemento. Abbiamo già realizzato, dice, il primo grande murales tra i ruderi della vecchia Montevago in collaborazione con diversi artisti e abbiamo riqualificato Piazza Vespucci. Oggi l'artista Paolo Manno, con l'autorizzazione dell'Enel che è intervenuta con la ristrutturazione delle cabine, sta realizzando dei murales che hanno come tema le mani. Porteremo avanti altri progetti del genere con l'obiettivo, conclude il sindaco, di migliorare il decoro urbano attraverso l'arte sia nel vecchio che nel nuovo centro. Il sindaco Larocca Ruvolo ha ringraziato per la collaborazione ai diversi artisti locali, ma anche quelli provenienti da altre zone della Sicilia e d'Italia, per il contributo che stanno dando a rendere più bella la città di Montevago.